good morning anche a voi allora buongiorno buongiorno a tutti 705 anzi 06 in questo istante martedì 19 settembre sempre qui in diretta su crystal radio e su milano news con lorenzo masieri e con fabio ranfi questo è good morning milano allora come va tutto bene tutto bene ti sento un po più spento rispetto al sogno no c'è un po di ancora spino in gola non capisco deve essere il freschino della mattina quando vengo in studio non so devo cominciare a mangiare la mia caramellina prima di entrare in studio è tornato il momento della caramellina o del te forse non lo so il teuccio anche nelle pause potrebbe essere una mossa intelligente oggi allora diciamo martedì 19 settembre è il giorno finalmente arrivato anche in lombardia è arrivato che non per dire it alert sì 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 è già stato fatto in quasi tutte le regioni d'italia adesso tocca anche a noi hanno già fatto in toscana già fatto in piemonte poi sentiremo anche delle testimonianze durante la giornata e anzi vi do subito questa notizia oggi in diretta sia su cristian radio che su milano news alle 11 e 45 più o meno accenderemo la diretta per seguire per attendere l'avvento del del messaggino tutti insieme ascoltare quel suono dicono che è un suono fastidiosissimo sì ho sentito sentito vabbè comunque se ancora non sapete che cos'è nel corso della puntata poi spiegheremo brevemente un messaggio d'allerta che è un test che servirà cose dopo non c'è da preoccuparsi servirà in più avanti speriamo anzi speriamo che non servirà mai però chissà 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 intanto iniziamo con la musica è il momento di tedua red light a proposito di allerte red light luce rossa allerta appunto oggi questo oggi ma oggi è tutto il giorno così faccio terrorismo psicologico e oggi it alert attenzione cos'è it alert brevemente allora da quanto abbiamo capito è un sistema di di allerta nazionale anzi poi sarà per cui quando c'è un allerta o una comunicazione così importante da fare appunto di emergenza entrerà così prorompente i nostri cellulari con un suono che il tuo cellulare non ha mai messo comunque messo in maniera strana un messaggio anche dalla si capisce che non è un whatsapp un messaggino ma è qualcosa di importante da guardare succede anche se in teoria così ci hanno detto oggi faremo le prove se il cellulare è in modalità silenziosa quindi anche se è in modalità silenziosa si mette a suonare a far baccano e tu dovrai fare quello che c'è scritto lì io sono veramente curioso perché alle 12 sarò in un'aula con altri 40 50 cristiani che ha la stessa metratura di questo studio probabilmente e sarò veramente curioso di sentire 50 e passa cellulari e mettere anche io non credo che faranno tutte lo stesso identico istante per me saremo fermi 5 minuti è almeno un 5 minuti di range quindi ci sa che casino cioè speriamo di no però sarà sicuramente le nazioni civili hanno un sistema del genere anche quale non venga intanto ricordiamo il numero di whatsapp 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 se ci volete fare un buongiorno scrivere qualche messaggio e abbiamo già alberto che ci scrive buongiorno fabio buongiorno lorenzo miele è un cucchiaino di no il miele è cucchiaino bisogna risolvere questo problema che io non riesco a leggere i messaggi perché si chiama allargare il font non si chiama miopia si chiama che il font è troppo piccolo così potrai vedere i messaggi grazie alberto del consiglio adesso appunto appena vado in passo adesso vado a prendere un cucchino di miele e ginseng mi faccio un ginseng col miele mi faccio così mi sveglia e mi toglie il raspino ieri abbiamo parlato dello sciopero ieri abbiamo parlato dello sciopero però alla fine nel... tanto rumore per nulla nella prima fascia nessun tipo di disagio per i milanesi nella seconda invece l'M1 la metro rossa è stata chiusa in un tratto tra l'otto e non ricordo quale altra fermata della metro comunque è stata chiusa parzialmente mentre solo esclusivamente l'M2 quindi la linea verde è stata interamente sospesa fino al termine del servizio quindi a me sciopero un po' così a metà se non perché sono solo la linea verde che aveva detto che sono noi dovevamo infatti che poi quello già capisci il problema è la linea verde è una di quelle linee che ti porta da una parte a Bettegrasse da un'altra parte ti porta praticamente a Bergamo è quella che quando arrivi fino a Gessate è veramente lontanissimo se non sbaglio è quella che si estende più verso l'internet e quella che appunto provoca più problemi perché poi quindi vuol dire che tutta quella gente lì deve venire giù con le auto e non con i mezzi e quindi poi la città si imballa infatti ieri sera insomma c'era un po' di traffico se era per curiosità ho controllato un tragitto che dovevo fare e che ho fatto poi successivamente all'orario di punta sulla circonvallazione mamma mia tutto rosso tutto rosso tutto rosso e invece per te chiamare la luce rossa adesso poi parlerò con i ragazzi di luce verde che invece ci danno appunto ci colleghiamo in questo momento con la redazione appunto di luce verde per sapere invece la situazione del traffico in questo istante sulla città di Milano linea luce verde non è vero The Colors al 2020 vedi quando tu ieri hai detto che non ne potevi più disco paradesimo no quell'altra italiano disco non ne potevi più vedi oggi l'ufficio programmazione ti ha accontentato una canzone vecchia di The Colors contento? grazie mille è l'ufficio programmazione è così guarda che carini che sono allora e ieri alla fine è arrivato il maltempo ieri è arrivato il maltempo anche tra parentesi qua ad esempio non so se anche dalle vostre parti qua a San Siro anche a più fasi a un certo punto è arrivato giù un acquazzone poi sembrava che fosse smesso poi è ricominciato poi è smesso poi è ricominciato ancora però due ore dopo era programmato più o meno per il pomeriggio tre, quattro invece è arrivato verso l'ottare sì sei, sei e mezza è arrivato e ha fatto un po' di casino cosa è successo infatti diciamo? sono caduti un po' di cioè con la bomba d'acqua ha fatto cadere chiaramente qualche albero proprio adesso che tutta la città di Milano ne abbiamo parlato ieri con Gallia Romagna assessora ai servizi civici si era risollevata dal diluvio della notte tra il 24 e il 25 luglio però sicuramente danni di entità minore sicuramente rispetto a quella bomba d'acqua lì però certo ricordiamo che per quella bomba d'acqua invece il 24 e il 25 luglio ci sono ancora delle zone in cui i tram devono essere deviati perché stanno ancora facendo i lavori sul tram sulla linea 7 sulla linea 9 stanno ancora in ballo con i lavori perché appunto insomma i danni furono veramente veramente ingenti in questo caso per fortuna molto meno ingenti ancora però a Seveso a limite risondazione e alberi un po' sparsi caduti sulle strade strade che e quelle di Milano nonostante Luce Verde appunto poco fa ci ha detto che non c'era a un momento il traffico ancora abbastanza scorrevole in città ma strade che diventano sempre più pericolose sempre più pericolose perché anche oggi purtroppo dobbiamo dare la notizia di lo sapete benissimo ieri se ne è parlato tanto di una donna che è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale perché è travolta dal camion dell'AMSA in zona via Le Padova quindi anche oggi purtroppo ci tocca dare questo tipo di notizie e sollevare come sempre la riflessione sul fatto che vada ripensato veramente veramente un piano per rendere le strade e i marciapiedi della città di Milano più sicure e le strade e i marciapiedi e i camion anche perché a questo punto c'è da pensare se davvero quei bestioni di AMSA così grossi che servono ovviamente perché una via come via Le Padova non la puoi fare se non con un coso del genere che molto probabilmente la metà via è già piena perché insomma è veramente una via lunga e forse bisogna pensare a dover ritornare alle vecchie campane che si passava una volta ogni due settimane oppure c'è il fatto di avere tutti i giorni comunque ormai una raccolta nelle proprie vie porta sicuramente ad avere anche un traffico in aumento dopodiché ieri mi veniva da ridere e non me ne vogliono chi mi sta sentendo in questo momento su un gruppo non dirò il nome del gruppo 6 di quartiere 6 6 di quartiere 6 che si lamentavano perché la sera alle 22.30 passano a lavare la strada e fanno rumore non è passano tipo alle 3 di notte ma soprattutto qualcuno ha detto beh signora non c'è problema si tenga la strada sporca allora a questo punto e lei ha detto no bastare per passare alle 20 e abbiamo fatto notare che però se passano da lei alle 20 da qualche altra parte passeranno alle 22 però perché che fanno e quindi insomma c'è anche a dire che i cittadini ogni tanto perdono un po' passa alle 20 o prima e allora c'è il problema che ferma la strada che blocca la strada magari un senso unico infatti qualcuno ha detto signora lei è fortunata da noi passano la domenica mattina a me passa la notte veramente 2-3 si che vabbè anche poi fa un rumore fa un rumore accettabilissimo 5 minuti ma neanche ma neanche ma anche se ti svegli 5 minuti e poi te ne torni a letto appunto se sono le 3 di notte se sono le 12 e mezza ti guaglia ancora un po' la De Filippi e poi vai non lo so cosa ti ascolti un po' Cristian Radio magari 7 e 25 minuti l'indimenticabile Neia questa è cattiva però questa è cattiva no e invece siamo andati a vedere vi giuro siamo andati a vedere chi fosse Neia quella che cantava questa bellissima canzone un po' la musical della Disney un po' sembrava così in realtà esce fuori da The Voice of Italy 1999 no la canzone del 99 eh sì The Voice of Italy molto dopo del 2016 esatto quindi questa è ancora più vecchia questa canzone di quando fuori poi in The Voice al secolo pensa al secolo Agnese Cacciola ok volevo dirti la tigre di di Rivoli di Rivoli nata il 15 agosto del 72 Rivoli ha cambiato 1, 2, 3, 4, 5, 6 etichette discografiche dal 97 ad oggi ok però vabbè quello si sta con la crisi della musica i Buongiovi hanno fatto lo stesso ecco infatti quindi gli auguriamo lo stesso successo dei Buongiovi con tre album pubblicati dei tre album da studio dal 97 ad oggi comunque grande successo del suo non è tanto questa canzone quando Restless che fa 5 milioni di ascolti su Spotify e rotti anche su su YouTube abbiamo visto poco fa quindi vieni tu puoi prendermi in giro vi invito a vedere il fuorironda su Milano il Gnoso ma tanto lo censuro ogni volta comunque adesso è il momento della pausa perché siamo arrivati già alla prima mezz'ora si quando ci si come è quando ci si diverte il tempo passa il tempo vola scusa il tempo vola il tempo passa sempre ma il tempo vola è una cosa oggettiva è una cosa si non ci puoi andare contro a meno che tu non sia Nolan e ti metti dei film che vanno avanti e indietro esatto ed evitiamo di hai già visto Oppenheimer ovviamente no ok lo vedrai ovviamente no mi piacerebbe vederlo ma sapete che con i miei problemi di sonnolenza si forse non è aspetto di iniziare la terapia come dire e quindi potrò vedere magari Oppenheimer diteci al 33178535555 cosa ne pensate comunque è ancora nelle sale è ancora nelle sale è uno dei pochi che fa il pieno e bene bene meno male meno male andate al cinema e adesso invece un po' di consigli per gli acquisti David Bowie Rebel Rebel prima avete sentito invece Rolling Stone con Satisfaction che programmazione eh sì sì questo per anticipare anche le novità che arriveranno poi nelle prossime settimane tra cui ad esempio proprio intorno a quest'ora dovrebbe arrivare il nostro Morning Rock una rubrica che giornalmente sarà curata da Alex Pierro presidente del lui è presidente dei critici musicali della musica popolare della musica di estrazione popolare cioè quindi rock appunto e la musica pop e compagnia bella proprio che quindi ci curerà questa rubrica dove tutti i giorni una canzone rock dedicata a quel giorno quindi insomma sarà il nostro Morning Rock ogni mattina qui su Crystal Radio 7.36 minuti martedì 19 settembre 33178535555 il numero di Whatsapp a cui potete scrivere e condividere con noi tutto quello che volete la vostra colazione il vostro viaggio verso il lavoro verso l'università verso la scuola verso dove volete andare anzi diteci dove state andando e come va la vostra mattinata che se no vi ci mandiamo no 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 si scherzo si scherzo però potrebbe essere un'idea invece caro mio masieri cosa abbiamo dai giornali quotidiani locali di oggi due piccole notizie una chiaramente più seria come la notizia buona e la notizia cattiva una più seria un po' più giocosa con cosa partiamo? con quella seria quella seria perché da diversi giorni ci sono dei professori che occupano il tetto del provveditorato professori sotto la sigla sindacale di El Cobas Lombardia che sostanzialmente protestano perché accusano appunto l'algoritmo con cui vengono assegnate le cattedre attraverso un sistema telematico quindi è una protesta di alcuni docenti appunto precari che anche in questo momento si trovano sul tetto della sede dell'ufficio scolastico regionale di via Soderini tu avresti mai pensato di leggere notizie dove dei professori protestano contro un algoritmo cioè ormai siamo all'assurdo comunque sarà necessario e no no ma sarà molto anzi io sono molto solidale con chi in questo momento appunto è sul tetto di via Soderini però pensa non sarà protestando contro una persona brutta e cattiva non so come dire ma contro il padrone contro il padrone no sarà contro l'algoritmo che è ancora peggio perché poi non lo ho fatto io non lo ho fatto io non si sa mai chi l'ha fatto leggete il libro di Harari 21 lezioni per il 21esimo secolo che sugli algoritmi eccetera vi fa aprire gli occhi in una maniera incredibile invece io abbasso un po' il livello per la realtà non perché lo tengo comunque alto ma vi farà ridere il film di Piff con Fabio De Luigi e noi rimanemmo qui come gli stronzi bellissimo bellissimo anche lì c'è di mezzo l'algoritmo è un cambio di vita radicale per colpa dell'algoritmo e poi avevo anticipato una notizia un po' più leggera stasera inizia la Champions Fabio tu che sei grande appassionato di calcio te lo senti? sì infatti esco sempre in cortina salutare quando fate la sigla della Champions stasera inizia la Champions Milan Newcastle in qua a San Siro Newcastle 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 non si legge da T Newcastle Newcastle ore 18 e 45 prima partita di solito le prime partite le prime partite del Giro dei Champions sono sempre a quest'ora non so per quale ragione con tutti i chiaramente disagi che normalmente ci sono le 18 e 45 sulle strade milanesi ma ci sono già moltissimi tifosi del Newcastle Newcastle a Milano ieri personalmente su via Novara ne ho visti molti già quindi qui in zona stadio c'erano ieri alle 9 e mezza farei colazione Newcastle so forse che hanno la divisa azzurra credo assolutamente no bianca e nera non so nulla del Newcastle tanto che la persona con la quale ero ieri ha detto ma perché hanno tutti la maglietta della Juve ma l'ho visto anch'io a un certo punto ne ho visto anch'io un paio che pensavo per se la mette da Juve infatti no è Newcastle ah vedi anche io l'ho vissuto passare qua in mezzo alla fine l'ho vissuto passare ho detto ma che ce la mette da Juve c'è stato il derby non riuscivo a collegare le notizie quindi non c'entrava assolutamente niente quindi Newcastle bianco e nero squadra che è stata allenata anche da un italiano no adesso c'è Sandro Tonali grande ex della partita chi è? Sandro Tonali ex Milan va bene Fabio facciamo per è un giocatore è un giocatore un giocatore ma di oggi o del di oggi certo mai sentito invece questa l'avete sentita The Doors Roadhouse Blues The Doors The Doors Roadhouse Blues 7.43 minuti martedì 19 settembre che è il giorno di IT Alert e allora e allora proprio per parlare di IT Alert abbiamo al telefono Claudio Agostinelli della protezione civile buongiorno Claudio anzi responsabile Corpo Volontari Soccorso Protezione Civile giusto? Sì giusto esattamente buongiorno a voi buongiorno a tutti gli ascoltatori buongiorno Claudio allora che cosa ci dobbiamo aspettare a quest'oggi? Ma non è nulla di preoccupante ci sarà un sistema che si chiama IT Alert che non è un'app ma bensì un'impostazione inserita nei sistemi operativi delle varie telefonie non è quindi necessario scaricare alcuna app o applicazione sullo smartphone non è necessario registrarsi il proprio numero poi far l'altro rimane anche sconosciuto l'identità dell'utente che riceve il messaggio resterà anonima perché la frase verrà protetta e l'inoltre è gratuito infatti questo era un tema che molti appunto avevano paura invece no il messaggio arriva ma non sa chi arriva cioè arriva a tutti quindi non sa lui il tuo numero perfetto a qualunque numero attaccato come dicevo non va scaricato nessuna app perfetto e non c'è bisogno di registrarsi il sistema invia cosa fa invia semplicemente un messaggio che funziona anche quando la rete è congestionata l'allarme raggiungerà solo le utenze del territorio interessato quindi oggi abbiamo la Lombardia ed essendo un messaggio prioritario blocherà le funzionalità del telefono tranne se sei in una chiamata in corso ok quindi riceverai il messaggio anche dopo avrà un suono strano perché avrà anche un suono strano che riceverai e in quel momento che sarà oggi alle ore 12 tutti gli utenti che hanno un telefono attivo alle ore 12 riceveranno questo che è solamente una prova per quanto riguarda l'allerta in caso di emergenze a livello di protezione civile interluzioni temporali e tutto il resto ecco ricordiamo anche che arriva anche se ha il cellulare in silenzioso quindi non spaventatevi se siete abituati a avere il cellulare in silenzioso sentite un rumore è normale non c'è nessun virus non c'è nessun no no non c'è nulla non c'è proprio nulla è proprio un sistema studiato appunto per raggiungere tutte le utenze di tutte le compagnie telefoniche che ci sono in atto sul territorio nazionale infatti diciamo che siamo arrivati anche con un po' di tempo perché infatti non è che è una cosa che si poteva fare così bisognava mettere d'accordo chi fa i telefoni le compagnie telefoniche la protezione civile tutti insieme è fatta per garantire perché la protezione civile deve fare anche la prevenzione quindi studiamo questo tipo di sistema è funzionale lo attiviamo e quindi vengono fatte delle prove come quando vengono fatte le esercitazioni a noi della protezione civile per far sì che quando si interviene sulle emergenze siamo già informati per quel tipo di emergenza allora ne approfittiamo che abbiamo te Claudio al telefono per chiederti invece come va la situazione maltempo insomma come siamo messi purtroppo abbiamo questi temporali che ci arrivano in una botta che comunque vengono sempre allertati dal sistema regionale di protezione civile quindi vengono ricevute delle allerte che non è l'IT alert ma bensì un altro sistema che vengono comunicati alle regioni le regioni avvisano i comuni e i comuni avvisano il sistema di protezione civile a livello di volontariato che vengono preallertati che arrivano queste temporali forti purtroppo arrivano di forte intensità in poco tempo e creano moltissimi danni quindi oggi giornata piena anche dal punto di vista di alberi caduti o cose del genere ma ce ne sono stati nella zona del Comasco che è stata più che interessata molto purtroppo stiamo ancora e si interviene ancora su il forte temporale che era successo a Lulio che ha diventato molti parti pubblici si sta ancora intervenendo su molti di quelle strutture e beh sì immagino lì c'è stato allagamenti eccetera eccetera l'Ambro era in forte salita anche il Seveso però adesso con la costruzione di questa vasca di laminazione che viene fatta sulla sezione tra il Comune di Bresso e il Comune di Milano dobbiamo vedere se effettivamente poi non si allagherà più la zona di Liguarda speriamo perché insomma i cittadini attendono con trepidazione come dire se la cosa è stata studiata perfettamente bene quello che dovrebbe la funzionalità di questa vasca dovrebbe ridurre al 100% gli allagamenti sulla zona di Liguarda che è da anni anni e anni che succede chiarissimo perché è molto disagio al traffico alla viabilità Claudio allora io ti ringrazio tantissimo quindi ricordiamo oggi alle 12 giusto arriva il messaggio di ET Alert giusto? non spaventiamoci è tutto a posto è un test e speriamo di non riceverlo mai più ma almeno insomma ma almeno è un test va bene allora grazie mille gli ascoltatori e una buona giornata a tutti grazie mille allora Claudio Agostinelli responsabile del corpo volontari soccorso protezione civile grazie mille Claudio buona giornata a te grazie a voi buona giornata e allora noi continuiamo invece con la musica continuiamo con la musica secondo me questa ti piace gli stadio ti piacciono? ma sì dai quel giro lì un po' ma soprattutto perché cantano 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 scusa l'accento messo a caso cantano Banana Republic no allora mi manca qualcosa ciao 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 The Bengals Walk Like an Egyptian beh è caso un gran pezzo pezzone tu te lo ricordi no non mi hai mai sentito no sì ma non è non è roba tua non è roba mia c'è poco da fare c'è poco da fare allora 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 8.08 bentornati qui in diretta su Crystal Radio 96.2 FM Da Plus sito internet app per iOS Android e anche su milanonews.it e anche anche qui sia su YouTube che su Twitch insomma se ci trovate un po' un po' tutti i contenuti le interviste eccetera potete recuperarle sui nostri social senza problemi nulla va perso c'è chi camminava come un Egyptian c'è chi invece cammina sulle passerelle sulle passerelle perché oggi come sapete apre la Fashion Week a Milano che tu sia una delle cose che a meno interesse i milanesi cioè i viri milanesi non gliene frega assolutamente niente io ricordo sempre scusate se cito un attimo un altro programma radiofonico non posso nemmeno citare tutta la frase perché Elio di Elio le storie tese sostiene che nei giorni della Fashion Week il tasso di facce da diciamo ecco a Milano aumenta a livello incredibile beh sì sicuramente anche il gusto invece diminuisce proporcionalmente oserei dire tutte le volte che si parla di Fashion Week e che inizia una delle Fashion Week io ho in mente questa frase che la trovo veramente beh ma perché comunque poi ripeto tutti ah Milano la città della moda ma credo che ai milanesi appunto non gli feria assolutamente niente anzi è solo una rottura di balle allucinante ne frega solamente per la quantità di gente che c'è in giro sì e un po' per le modelle che girano molti sono contenti di far rifarsi un po' gli occhi però secondo me più di quello ormai non c'è perché davvero è una perché adesso camera della moda di Milano ascoltatevi cioè fate qualcosa per noi milanesi a sto punto allora ma non lo so è un di allora sì sono nel mobile per quanto so che c'è qui chi l'odia tu no no non io parlo di Eribi ad esempio quelli dei trend loro sono un po' però vabbè c'è fuorisalone ci sono anche delle cose con la scusa del fuorisalone i quartieri si animano allora si cerca sta fashion week più che esportarci appunto walk like an Egyptian qualche giraffa che cammina in mezzo alla strada gente vestita male e grandi fashion designer che passano guardano e se ne vanno non c'è proprio però c'è non e beh porta porta economia si ho capito ma l'economia chi ha gli hotel di un certo livello sicuramente non ha la pensione Mariuccia di Viale Padova vabbè però il comune incasserà ecco l'hai detto però sempre il comune incassa e poi ci alzano il miglietto del tram Roberto sembrava che arrivasse Roberto va bene chissà no però nel senso secondo me è una di quelle settimane fashion week un po' slegata però dalla città o meglio forse è rimasta legata a una città che non c'è più quella Milano negli anni 80 Milano da bere chi mi auguro non torni mai più anche se il rischio c'è sempre a livello cioè io non ricordo non ho memoria di una week che non mi dia la stessa impressione della fashion week ossia di un qualcosa che è programmato va fatto ma alla fine è slegato eh sì è molto slegato piuttosto i festival che fanno sotto regione Lombardia non so se sei presente sì sono molto più legati quelli c'è molta più partecipazione nonostante chi mi ascolti anche dall'anno scorso sappia quanto io odio le week in generale sì sì che tra parentesi non sono mai week perché durante tre giorni le chiamano week a proposito che è questa la vedo la solita modalità milanese di fare le cose più grandi degli altri ricordo sempre che siamo stati la città che ha avuto la M5 prima della M4 quindi siamo sempre quella roba di noia comunque la fashion week no la fashion week facciamo niente fatica a trovare un collegamento con noi e con la città mi auguro che magari la camera della moda si chiama no sì la camera della moda che è colui che organizza l'inter che organizza appunto la fashion week magari comincia a pensare di che ne so cioè fate una bella sfilata in piazzale Seinunte fate una bella sfilata al grattosoglio cioè ma vai mettere che bello Seinunte è teatro d'eccezione ma vai mettere è tutti facili a fare i fighi in centro nelle vie della moda eh venite venite qui in periferia dai 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 Imagine Dragons Siamo in diretta su Questaradio.it siamo in diretta su Questaradio 96.2 sul Dark Plus su iOS e Android e su Milano News su YouTube e Twitch chi siamo? Qui con me c'è Lorenzo Masieri e poi c'è Fabio Ranfi chiaramente in diretta dei studio di Milano News in quel di San Siro sono le 8 e 16 minuti in questo istante di oggi martedì 19 settembre numero per poterci contattare cosa abbiamo fatto tutto 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 ciao possiamo anche andare abbiamo fatto tutto tra poco tra poco arriverà Walter Cherubini sapete benissimo anche se è solamente il secondo appuntamento con lui che martedì è il suo giorno martedì ospite fisso di Good Morning Milano per parlare presidente di consulta periferia Milano in questo caso parleremo del caro affitti del problema degli universitari i sede che vanno fatica a vivere a Milano e anche però come sempre la consulta periferia Milano ha delle soluzioni tira fuori delle soluzioni dal cilindro di Walter quindi come dicevamo appunto tutti i martedì avevamo qui con noi Walter Cherubini della consulta periferia Milano e quindi quest'oggi ancora affronteremo il tema delle periferie il tema delle periferie che appunto in una radio che si chiama Cristal Radio che dice Milano si sente è ovviamente un tema caldo per noi cioè la periferia che poi sai che la periferia così nota di colore ma neanche più di tanto c'è un dato anzi un dato fisico reale la periferia è l'80% della città beh ma non pensavo arrivassi al 80% però e sai che nessuno ha definito quale sia la periferia reale cioè non è che il comune ha deciso queste periferie anzi il comune ultimamente se gli vai in periferia gli vengono i capelli dritti a sala perché ha deciso che la periferia è una brutta parola quando invece è una parola geometrica mi viene a dire cioè periferico qualcosa ma l'unica l'unica ente che ha deciso di decidere dove era il confine tra periferia e centro è stata l'agenzia delle entrate che l'ha definito con la circonvallazione e che ha detto allora se sei fuori dalla circonvallazione sei in periferia se no dentro la circonvallazione sei in semicentro fino alla prima dei bastioni dentro quella interna dentro quella interna c'è il centro e poi c'è il centro storico anche che credo sia Pezza del Duomo e San Bambio e non di più la Milano romana per intenderci e no oggettivamente l'unica distinzione che si può fare è dentro fuori dalla circonvallazione brutale e quindi se la fai così pensa quanta roba c'è fuori esatto e quanta roba bisogna dedicare attenzione e quanta poca se ne dedica e quanta poca se ne dedica e soprattutto anche perché stiamo parlando di una città che come sappiamo ha l'ambizione di spostare sempre più in là la sticella del confine che ha festeggiato se posso dire secondo me anche in maniera inutile il raggiungimento di un milione e quattrocentomila abitanti come se fosse una bella cosa e secondo me non lo è siamo troppi andate a vivere da un'altra parte andate a Torino che è tanto bella andate a Parma andate a Bologna tutti qua ma non per altro perché siamo veramente tanti sono di per ascoltare Milano e Cristal Radio forse per ascoltare Good Morning Milano e Cristal Radio può essere può essere sta di fatto che insomma effettivamente Milano anzi e pensa che adesso festeggiamo per milioni e quattrocentomila abitanti ma al fine degli anni settanta si è rischiato di arrivare a due milioni quasi due milioni di abitanti all'interno solo della città di Milano che non era grande come adesso che non era neanche così espansa infatti così espansa i confini erano quelli ma c'erano sicuramente molto e molte meno case disponibili comunque ne parleremo sicuramente meglio e in maniera più accurata con Valtaccherubini fra poco qui sempre su Cristal Radio ma prima un po' di music eccoci allora siamo tornati siamo tornati su Good Morning siamo qua a Good Morning Milano su Cristal Radio 96.2 in FM è appena arrivato Valtaccherubini che adesso al prossimo blocco faremo entrare in studio e parleremo appunto di ciò che anticipavamo prima il problema del caro affitti degli alloggi universitari e tante tante altre cose che appunto riguardano le periferie siamo arrivati alla mezz'ora quindi lo sapete doppia canzone piccola pausa pubblicitaria poi torniamo da voi sempre qui su Cristal Radio sempre in diretta anche su Milano News dagli studi di San Siro di Milano All News a fra poco e bentornati facciamo i soldi con i rapper poi dividiamo con i comacrose 8 e 31 minuti qui con noi l'ospite di giornata Walter Cherubini buongiorno Walter buongiorno a tutti allora Walter Cherubini ricordiamo consulta periferie Milano quest'oggi anticipavamo prima di prima nel blocco precedente Walter parleremo un po' del caro affitti del caro caso ma soprattutto visto dal punto di vista degli universitari perché cosa è successo questa settimana ma diciamo per certi aspetti niente di nuovo perché andando a vedere un pochettino i quotidiani di un anno fa in questo periodo qui riportavano le notizie del caro affitti caro affitti per gli studenti universitari fuori sede che a Milano sono circa 80.000 quindi un numero molto significativo che tutti gli anni cercano cercano un tetto e i prezzi sono piuttosto elevati Milano è la città con i prezzi di affitto più cari siamo sull'ordine di 650 euro per per una stanza o un posto letto e la domanda che ci dobbiamo porre ma Milano ha questi spazi in secondo luogo per quanto ci riguarda da un'ottica periferica abbiamo questi 220.000 universitari distribuiti su tra università e accademie noi abbiamo circa 25 realtà 220.000 sono tantissimi 220.000 sono enormi tenuto conto che noi abbiamo 1.400.000 residenti siamo 1.400.000 residenti e quindi complessivamente tra i fuorisede i cittadini e quelli che invece fanno i pendolari dalla provincia diciamo così abbiamo un'enorme energia che ci dobbiamo porre ma le università abitano la città perché che Milano sia una città piena di università e accademie vengono anche dall'esterno anche l'accademia delle belle arti di Cuneo è venuta a Milano anche perché 220.000 studenti fanno di Milano veramente forse la città universitaria per eccellenza perché adesso Perugia che è spesso città universitaria ma forse non ci arriva neanche 220.000 abitanti con tutti quelli che capitano a Perugia quindi capisci che diventa veramente una città nella città una popolazione un popolo quasi come fossero gli unni ecco questo è il tema però se le università sono parte della città perché noi sicuramente dobbiamo distinguere due concetti che non sono tanto parenti perché c'è una Milano attrattiva e quindi tutti arrivano a Milano perché è la città delle opportunità poi vediamo chi ce la fa anche o non ce la fa nello stesso tempo abbiamo invece una Milano abitativa una Milano abitativa che è sparsa su tutto il territorio in particolare su quello periferico con i suoi circa 850.000 residenti e però qual è l'osmosi qual è il connubio questi 80.000 universitari che vengono dall'estero e anche dalle altre regioni italiane e qui che tipo di accoglienza che tipo di ambito trovano questo e che tipo di relazione si costruisce anche ecco allora guardandola dal punto di vista periferico il problema per noi non è tanto dare un tetto questo sicuramente è uno dei temi ma è come queste ricchezze possono aiutare la città a dispiegare le proprie vita una città che si sta consolidando anche con una popolazione abbastanza anziana e quindi si creano anche degli squilibri allora questo secondo noi è il punto di partenza e rammentando un po' quello che diceva Enzo Piano qualche tempo fa la periferia è la città che sarà o non sarà oltre che ritetto anche poeta questo è un pochettino la sfida e allora bisogna guardare con una modalità diversa ma ne parleremo infatti perché questo è il punto di partenza allora adesso ci ascoltiamo un brano e poi vediamo invece quale potrebbe essere il punto d'arrivo con anche le proposte appunto di consulta periferie Milano monalissa dominic fike o fick come stava non lo so dominic fick dominic fick dominic fick questa arriva da spiderman niente non c'entra nulla spiderman è laureato sì spiderman è laureato non fa università secondo me è già laureato e beh sì non lo so sì ma non si sono conosciuti sì si sono conosciuti non mi ricordo ne ho visti da picco credo che il ragno proprio lo morse in un laboratorio universitario se non sbaglio chissà che magari qualcuno anche qui a Milano venga mosso da un ragno che gli crei una casa perché poi è questo il problema no Walter diciamo appunto il problema 220.000 ci sono cosconvolta questo numero 220.000 studenti che arrivano giù come gli unni della nostra città e non danno dove andare o meglio non è vero se hai mille e passa euro in tasca vai dove vuoi se no 600-700 euro per una stanza dicevi cose ma ci potrebbero essere delle soluzioni allora noi guardiamo chiaramente il tema dell'abitare la città e in particolare della condizione delle periferie quindi è un approccio è una modalità diversa di guardare ai problemi partiamo dal dato dell'abitare quindi uno dei punti uno dei punti di partenza è proprio questo che Milano non conosce Milano non conoscendo Milano molto spesso non si conoscono a fondo i problemi ma non si conoscono anche le risorse che ha noi partiamo da un dato dell'abitare tetto allora la proprietà pubblica cioè la nostra proprietà noi Milano quanti abitazioni abbiamo le cosiddette case popolari e non lo sappiamo che sono ma no diciamo che i numeri ormai si cominciano a sapere anche abbastanza precisamente sicuramente i cittadini i numeri non lo sanno quindi hanno un patrimonio i cittadini di cui non sono consapevoli e questa non consapevolezza che cosa porta che nel corso degli anni noi siamo andati a creare una serie di quartieri che sono cosiddetti problematici non sto a elencarli perché ogni tanto si sente dalla cronaca nera e così via ma all'interno di questi quartieri al di là della cronaca nera abbiamo tantissimi spazi perché uno dei punti è quello della rigenerazione socioabitativa abbiamo costruito un decalogo dalle periferie per ripartire dove uno dei punti è esattamente l'approccio che dobbiamo avere su il tema delle case popolari che non possono essere la convergenza di tutte le problematiche perché altrimenti se uno è e anziano e non sta bene va nelle case popolari non ha lavoro va nelle case popolari ha dei problemi psichici va nelle case popolari ha delle disabilità va nelle case popolari noi facciamo un concentrato di emergenze e che città volete che sia o che quartiere volete che sia un quartiere pieno di emergenze in più se ci sono anche un non controllo e quindi ci sono i prepotenti chiamiamoli così e i violenti perché questa è la situazione reale come tutti quanti sappiamo all'incirca capite che sta male chi sta dentro e fa quello che vuole qualcuno che è prepotente che dovrebbe stare forse dentro qualche altra parte e le soluzioni però ci sono quali potrebbero essere? allora il risultato il risultato di questa situazione è che noi abbiamo un patrimonio abitativo tra comune e Aler comune gestito da MMSPA e regione gestito da Aler di un totale di 62.500 appartamenti di questi 62.500 appartamenti adesso do dei numeri macro noi ne abbiamo qualcosa come 16.500 che non sono utilizzati per tanti motivi è un sesto è un numero enorme 60.000 16.000 perché noi abbiamo 34.500 di Aler abitati 24.500 28.000 del comune 21.500 abitati quindi questa è la situazione con un complessivo di un po' più di 500 occupazioni abusive al comune circa 3000 dell'Aler ti dico al 3317853555 ci scrive Katia che ci dice buongiorno voce del mattino Milano è piena di risorse mal sfruttate dice il patrimonio è stato svenduto è sempre più diffuso il gettare tutto in un calderone e in pochi possono permettersi poi di vivere nella Milano bene nemmeno più quelli che avevano poi diritto a quanto pare poi anche poi c'è tutto il problema anche delle case popolari di chi poi ne ha diritto ma non riesce ad avere insomma qui è un altro tema anche quello che apre grazie Katia per il messaggio allora il tema secondo noi è questo cioè noi abbiamo un patrimonio che per mille motivi adesso non è un interno a sindacare è vuoto non è utilizzato è una risorsa vuota quindi quando uno dice e questa risorsa vuota potrebbe essere invece uno dei volani della rigenerazione socioabitativa ma la rigenerazione socioabitativa che avevamo pensato nel 2012 per un contatto che avevamo avuto con l'Aler in particolare del quartiere San Siro ci sono tutta una serie a Milano circa mille appartamenti sotto soglia cosa vuol dire gli appartamenti sotto soglia che sono inferiore a 25 metri quadri ok questi appartamenti non entrano nelle assegnazioni nelle graduatorie la famiglia non può poi andare perché è troppo piccolo ok un po' sono abitati ok ai tempi metà erano abitati metà no quindi ne avevamo 500 da utilizzare 500 da utilizzare in particolare ce n'erano 50 di questi al quartiere Aller San Siro ok al quartiere Aller San Siro quindi nella dinamica nostra di consulta periferie Milano e quindi anche con i rapporti con il mondo studentesco università eccetera allora siccome il nostro problema è la rigenerazione socioabitativa abbiamo detto ma in questi 50 appartamenti che erano pronti che cose ci potremmo mettere? ci potremmo mettere tutta una serie di studenti universitari fuori sede del conservatorio quella era l'ipotesi allora 50 appartamenti vogliono dire circa 75-100 studenti perché se non metti un numero significativo di persone nei quartieri non cambia esattamente nulla è come una goccia nella sabbia che dopo due secondi non la vedi più è chiaro che 50-100 studenti che si sarebbero impegnati a fare che cosa? avevamo già avviato anche con il conservatorio una serie di contatti si sarebbero messi a fare che cosa? a fare concerti nei cortili noi abbiamo decine di cortili dove abbiamo un abitare generativo quindi appunto allora esattamente uno prende va e si fa carico di qualcosa di capace allora tirandola un pochettino il quartiere Adel San Siro sarebbe potuto diventare il quartiere dei musicisti perché poi da cosa nasce cosa allora siamo rimasti bloccati l'ultimo finale ma questo qui che cos'è un'invenzione strana c'è stato il forum dell'abitare qualche mese fa di Milano dove la vice sindaca della città di Bologna ha posto questo problema dei sottosoglia e sta dicendo che anche loro siccome Bologna ci sono parecchi universitari stanno vedendo di utilizzarli per gli universitari allora l'idea di dieci anni fa non era così peregrina però chissà che magari nelle convulsioni milanesi ma proprio perché non si guarda che ha le risorse e ha un'ottica periferica va bene allora continuiamo con un po' di musica e poi ancora qualche minuto per salutare Walter e so che c'è qualcosa a dirci sui cori ad esempio ma ne parliamo fra pochissimo dopo Bruno Mars Bruno Mars That's What I Like 8.49 minuti sempre qui in compagnia di Walter Cherubini consulta periferie Milano dicevamo quindi tante soluzioni ma tu volevi fare un collegamento anche con quindi tre flash uno richiamando questa cosa di prima dell'utilizzo delle risorse noi ci occupiamo di periferie non ci occupiamo di musica ma nel percorso di consulta periferie Milano è nata una vicenda musicale questa vicenda musicale per esempio si è tramutata in cori Milano per le periferie dove abbiamo la disponibilità di 40 cori amatoriali che si sono resi disponibili nel corso degli anni e quindi ogni anno ne abbiamo circa 40 a cantare nelle periferie quindi vengono nelle periferie a cantare quindi non in un luogo al conservatorio che cosa vuol dire che hanno trovato questi 40 cori nel corso del tempo una opportunità per loro quindi guardiamola in maniera tra virgolette rovesciata guardando dal punto di vista periferico si riescono a fare parecchie cose ecco un punto di ripartenza ecco 130 concerti nel 2018-19 nel 2023 ne abbiamo già fatti una trentina e a fine anno arriveremo a 50 concerti 50 concerti di cori che probabilmente è l'iniziativa coristica più grossa che c'è a Milano anche se nessuno lo sa perché Milano è così di questo ne parleremo il mercoledì 27 settembre alle ore 17 fino alle 19 nel convegno dalle periferie per ripartire dove faremo un focus con rappresentanti istituzionali rappresentanti associativi e anche le proposte di consulta periferie Milano che poi vi spiegheremo ma in altre puntate entreremo più nel merito come dicevamo questa mattina Lorenzo e Walter tu Walter sarai qui tutti i martedì quindi tutti i martedì siamo qui a parlare di periferie cioè cerchiamo sempre anzi di dare grande spazio periferie ovviamente martedì supermente un incandimento sulle periferie ricordiamo anche che sta per ripartire su Milano News Focus Periferie che partirà con uno speciale uno speciale sui 11 comuni annesse appunto nel 1923 al comune di Milano quindi saranno 11 speciali 11 esterne sugli 11 comuni appunto gli antichi comuni del milanese e tra le cose che ci sono ricordo anche il Milano Fotofestival che sarà in corso fino al 31 di ottobre 100 sedi 140 mostre quindi anche questo qui è una possibilità in più che abbiamo disseminata in biblioteche luoghi vari diffusa come si dice ma diffusa sul territorio diffusa sul territorio ecco un'opportunità e anche uno scambio spesso ci sono queste manifestazioni diffuse ma poi vedi proprio la riga sono 10 in centro e una in periferia solamente che la periferia è l'80% della città ecco ne parlavamo prima di questo infatti quindi ecco invece in questo caso Fotofestival dicevi fino al fino alla fine di ottobre ah perfetto insomma un bel proprio tu che sei un grandissimo fotografo Lorenzo in base a cosa lo dici questa cosa dalla faccia che hai secondo me sei bravo a fare le foto mi voglio fidare sono un po' lombroso da questo punto di vista così e allora grazie mille a Walter Cherubini consulta per i feri Milano noi ci sentiamo fa pochissimo per la chiusura perché siamo arrivati alla fine ma questa prima è Marco Mengoni con Elodie pazza musica e allora adesso è arrivato proprio il momento di salutarci quindi ci risentiamo domani mattina dalle 7 alle 9 come sempre qui su Crystal Radio grazie mille Lorenzo Masieri grazie mille a Fabio Ranfi a domani buona giornata a tutti ciao 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 ciao